Due categorie diverse. Non voglio mancare rispetto a nessuno, ma volete sentire la mia opinione onesta? Oggi Milan e Juventus sembravano due squadre di due categorie diverse. Se dall'altra parte prendiamo in considerazione la classifica dei 10 giocatori più pagati in Serie A, troviamo 8 su 10 della Juventus. 8 su 10 giocatori sono della Juventus. Vi li cito subito. Pogba, Paredes, Vlaovic, Rabiot, Bonucci, Sesne, Alexandro, Di Maria, inoltre un mister strapagato. Perché non è normale. Non è normale dare 7 milioni netti ad Allegri e dargli soprattutto un contratto di 4 anni. E perciò alcuni l'hanno preso come barzelletta, come scherzetto, da arriva bene e così, ma secondo me lui volontariamente, forse sì, forse anche no, forse sono anche un po' scappate queste parole, ha detto la verità quando ha detto al tifoso, lo paghi tu Allegri. Ripeto, per tanti è stata solamente una battuta, ma secondo me è stata la verità. Perché a livello calcistico, a livello sportivo, non c'è nessun motivo per tenere ancora Allegri in casa Juventus. Una Juventus che non ha gioco, che veramente oggi ho visto una fatica enorme di entrare una volta in area avversaria in maniera strutturata. Non ci sono schemi, non c'è proprio un gioco. Una Juventus quando ha la palla non sa cosa fare. Il contrario totale rispetto al Milan. Perciò da un lato io vedo una società, e mi riferisco a quella rosso-nera, che è riuscita a massimizzare il suo potenziale. E questo potenziale magari negli ultimi anni, a livello di risorse, era anche più piccolo rispetto a quello della Juventus, a livello di quello che hanno speso, eccetera. Però sono riusciti a massimizzarlo, con un lavoro molto intelligente, puntando spesso anche su dei giocatori ancora un po' sconosciuti, dove alla fine il rapporto tra investimento e quello che ti danno è assolutamente inutile, è assolutamente positivo. Altro che, non solo positivo, c'è proprio un rendimento incredibile con alcuni di questi giocatori. E invece, quando vedo la Juventus, il rapporto tra prezzo e qualità è in rosso. È incredibilmente in rosso, e perciò secondo me possiamo proprio parlare di una gestione negativa, non solo a livello calcissimo, ma proprio a livello un po' di 360 gradi. Perciò, ripeto, da un lato è una società che ha massimizzato il suo potenziale, dall'altra parte è la società bianconera che, con immense risorse, è riuscita a calare enormemente. Io avevo letto una statistica prima di questa partita, la devo ancora verificare, ma gira, gira un po' ovunque, perciò penso che sia vera. Pioli, in 16 partite, non era mai riuscito a battere Allegri. Questo deve far riflettere, questo deve far capire che normalmente ovviamente Milan-Juventus non è una partita normale, non è una partita scontata, è una partita dove normalmente può succedere di tutto, una partita dove normalmente decidono i dettagli, decidono gli episodi, e normalmente non è una partita dove vedi due squadre di due categorie diverse. Ripeto, oggi proprio ho visto due squadre che non si possono neanche paragonare, cioè la super età del Milan era talmente netta che non si potevano neanche paragonare, e questo è incredibile, questo è veramente, veramente incredibile. Da un lato ho visto un gruppo, il Milan è veramente un gruppo che vive molto anche di questo entusiasmo che sono riusciti a creare in questi anni, aggiungendo poi però anche sempre più qualità sul calcio mercato, lavorando ovviamente in maniera molto intelligente. Dall'altro lato vedo individualisti che proprio non sanno cosa devono fare. Da un lato vedo una Juventus che gioca proprio senza intensità, senza schemi, invece un Milan che ha proprio una idea molto chiara, che adesso andiamo anche un po' a analizzare in questo video. È tornata la coppia di Hernandez e Leao sulla cossia sinistra, però abbiamo visto un Milan che gioca un calcio molto molto flessibile, molto moderno, nel possesso palla ho notato che Teo spesso diventa un mediano, e Tonali e Povega sprint in avanti, attaccano alla profondità, specialmente Povega molto bravo a tirare spesso fuori dai difensori, a creare spazi, e Benasser dietro dà sicurezza alla squadra. Ma movimenti senza palla che la Juventus, onestamente, non ho mai visto in questa partita, e non solo. 29esimo minuto, inoltre secondo me ci stava anche un rigore per il Milan, non ha importanza, perché questo rigore, come abbiamo visto, non avrebbe cambiato la partita, però vi dico la mia opinione, per essere corretto, secondo me va bene, Vlaovic mette le mani dietro la schiena, ma il movimento va verso la palla, e perciò anche se tu hai le mani così, se fai così vai verso la palla, colpisci la palla con il braccio, siccome è il rigore, perché se no è facile, allora anch'io entro in area di rigore, faccio così e blocco tutto con le spalle, no, non funziona così, però ripeto, non ha una grande importanza, non ha avuto una grande influenza su questa partita. Poi Leao, 33esimo minuto, da fermo, questo è stato veramente incredibile, tira, da fermo, non prende spinta, niente, da fermo, tira e colpisce il secondo palo, il secondo palo colpito in questa partita del Milan, e lì abbiamo visto ancora una volta che a Leao non devi mai concedere minimamente spazio, anche quando sembra fermo, sembra, sì, di stare in piedi, tira fuori delle pallonate incredibili e poi ha questa esplosività che perfino all'ultima partita contro il Chelsea, dove il Milan ha avuto grossi problemi, dove il Milan non ha avuto gioco, Leao è sempre in grado di inventarsi proprio qualcosa dal nulla. Questo è assolutamente una qualità da un toblea, Leao è assolutamente un toblea. Tonali è stato molto disciplinato su Rabiot, Pobega molto disciplinato su Locatelli, perciò la Juventus non aveva nessuna idea come uscire tramite le vie centrali, era tutto chiuso, il Milan a tratti ha marcato a uomo ovunque in campo, gli sono seguiti ovunque in campo, e la Juventus sembrava disperata, non sapeva cosa fare, Milik e Vlaovic hanno toccato pochissimi paloni, Vlaovic ha dovuto fare lavori sporchi, che normalmente lui non dovrebbe fare, e non so, è come se uno prende la Ferrari e va in bosco a tagliare la legna, e di buttare la legna nell'auto, la Ferrari non è adatta a questi tipi di lavori, Vlaovic totalmente sprecato, non per nulla valorizzato, difficile anche giudicarlo, dopo una partita così, perché ovviamente non gli sono arrivati i paloni, l'1-0 per il Milan, Tomori completamente solo in aria, Giagiru al tiro senza pressione dell'avversario, perciò anche qui errore incredibile da parte della Juventus, e un mister allegri che non è mai riuscito a trovare delle soluzioni, mai riuscito a dare delle risposte, dominio del centro, non aveva gioco, messo McKennie per quadrado, ma ha cambiato veramente poco, nulla, quello che è ovvio, che Allegri vive della creatività, dei singoli, perciò anche l'ultimo scodetto che aveva vinto con il Milan, aveva una squadra incredibile, con i vari, se non mi sbaglio c'era Robinho, forse anche Ronaldinho, era una squadra veramente incredibile, va bene, lì è facile dire, io do un minimo di struttura, e il resto ci pensano i campioni, come uno adesso può anche dire, va bene, ma se ci fosse stato Di Maria, Di Maria avrebbe risolto la partita, ma non esiste, che è una squadra dove, ripeto, 8 su 10 sono i più pagati di tutto il campionato, un mister stra pagato, dipendono tutti coloro di un giocatore, dipendono tutti di un 34enne, che lui ha la responsabilità addosso di tutta la squadra, non esiste, assolutamente non esiste, 2-0 poi di Diaz, incredibile questo gol, soprattutto per la resistenza, non so come è riuscito a stare, a rimanere in piedi, veramente una grande coordinazione, grande resistenza, attualmente riesce a mettere più intensità sul campo, rispetto a De Catteler, a me personalmente piace più De Catteler, però attualmente è un po' calato, e Diaz ha fatto una gran, gran bella partita, una Juventus talmente senza gioco, ripeto, da un lato, di merito della Juventus, dall'altro lato, ovviamente anche merito del Milan, che ha fatto una grandissima partita, di altissima intensità, ancora una volta sono riuscito a giocare veramente bene, Prema al sessantesimo minuto, siccome sono arrivati un po', non lo so, è arrivato un po' lo spirito di Lucio, Lucio era un giocatore che a me piaceva tantissimo, forse in Bundesliga, da me in Germania, il miglior brasiliano che abbiamo avuto, lo so, è un po' difficile definirlo, perché c'erano giocatori fantastici, come Diego, che era il Werder Bremen, un trequartista magico di vecchio stampa, c'erano giocatori come Marcelinho, in pochi lo conosceranno amici, un bellissimo giocatore, che aveva sempre capelli verdi, blu, rossi, era proprio il brasiliano Doc, uno che ballava, danzava sul campo, è riuscito a portare un Hertha Besse Berlino, un Berlino veramente mediocre, in alto, per due o tre anni, se non mi sbaglio, in Coppo EFA, era veramente fortissimo, però, se devo scegliere quello più forte, non quello più tipico, ma quello più forte, brasiliano di tutti i tempi in Bundesliga, era sicuramente Lucio, veramente straordinario, perfino dopo, quando era un giocatore finito, quando è andato in Italia, tra virgolette finito, ha vinto il triplete con l'Inter, era veramente devastante, e Bremen oggi, mi ha ricordato un po' lui, quando ha preso la palla fra il piede, ha iniziato a driblare, però era a disperazione, Lucio faceva anche spesso questo, quando la sua squadra non girava, prendeva la palla, triblava 3-4 giocatori, creava superta nomeica, aveva un dribbling, una cattiveria agonistica, incredibile, mi è piaciuto sempre tantissimo questo giocatore, e in quel momento, oggi, Prema, mi ricordava un po' il suo conezionale, Lucio, al minuto 60, dribbla, salta all'uomo, fa vedere un po' di voglia di creare qualcosa, e poi tutti fermi, non sa cosa fare, la dà un giocatore, se non mi sbaglio, McKennie, e la perde subito, ovviamente poi dietro c'è un buco, ed è anche rischioso fare una cosa del genere, perciò una Juventus, che aveva iniziato bene, ma ancora una volta è riuscita, fosse a giocare, 10 minuti, 15 minuti, e per il resto, zero calcio, zero calcio, io, sono neutrale, su questo canale YouTube, Giano Sport, commento il calcio in maniera neutrale, almeno, mi impegno, non sempre ci riesco, però, secondo me, in maniera obiettiva, non c'è più nessuna giustificazione per la permanenza di Allegri, nessuna, a parte, questa, calcolazione sbagliata a livello economico, siccome questo è proprio l'unico motivo, per cui, possa ancora avere senso di mantenerlo, anche se uno dice, va bene, se poi, non riescono di andare avanti in Champions League, anche lì, Juventus messa adesso molto male, Benfica è riuscito a pareggiare, contro il Paris Saint Germain, e se la Juventus, la Juventus adesso deve sperare che il Benfica, perda due volte, o diciamo, perda punti due volte, perciò rischia fortemente la Champions League, rischia anche lì, tantissimi introiti, tantissimi soldi, in una situazione già molto precaria, e se non dovesse passare questo giro, diventerebbe ancora più difficile, avere due allenatori sul libro paga, invece io penso che questi siano i motivi, per cui Allegri è ancora un giocatore della Juventus, altri motivi, onestamente, non mi vengono in mente, un approccio a tutti amici, fatemi sapere un po' la vostra opinione, iscrivetevi al canale YouTube, ci vediamo presto con altri video, sempre viva il cancio.